La differenza prima di tutto quando si paga è il servizio che viene erogato e in autostrada, da noi lo sappiamo tutti, purtroppo è ancora pieno di code, di cantieri, di chiusure temporanee chi viaggia molto anche la sera, di notte si trova spesso a dover uscire, rientrare quindi il tema vero è che in Liguria ad oggi il servizio autostradale non è un servizio che è in grado di giustificare io non dico non solo l'aumento ma neanche il pagamento perché appunto vi sono seri problemi senza considerare poi tutte quelle che sono anche i vari editristini, penso alle barriere fonassorbenti che dovevano essere realizzati nel giro di pochi mesi e che invece a distanza di anni non hanno neanche ancora una calendarizzazione precisa. Ora ma immaginiamo che questo deve essere posto da Salvini questo problema cioè aprire un tavolo e considerare la Liguria un paese diverso dagli altri, una regione diversa dagli altri. Ma penso di sì che ci siano almeno due tavoli il primo è sicuramente quello che deve essere fatto al Ministero delle Infrastrutture non dimentichiamoci che lo Stato è entrato dentro Aspi e quindi oggi ha anche come dire una voce più forte nel poter parlare il secondo penso che debba essere fatto anche a livello di enti locali c'è stato secondo me un accordo di ristorro sbagliato quello proposto da Comune e Autorità Portuale perché ricordiamoci che c'era non solo l'aumento ma c'era l'esenzione totale prevista fino al 31 dicembre 2031 e quindi non avremmo dovuto pagare quelli che erano i pedaggi su tutta la 10 ma c'è stato questo accordo previsto appunto da Comune e Autorità di Sistema Portuale che hanno chiesto di usare queste cifre che servivano per l'esenzione per fare altre opere tra cui quella del tunnel che come dire è un'opera molto complessa e che vedremo chissà quando ora io credo che non sarebbe stato più corretto mantenere un'esenzione totale dei pedaggi autostradali fino al 2031 Ecco ma l'aumento è stato stabilito? Cioè è automatico addirittura come una volta il primo gennaio scatta ma è possibile tornare indietro? Ma per quanto riguarda la Liguria perché parliamo del nostro comparto Ma io credo assolutamente di sì è evidente che è stato annunciato un giorno prima della fine dell'anno a chiusura di giornali e quindi è scattato il primo gennaio ma così come è scattato l'aumento può scattare una diminuzione credo che si possa convocare autostrade e fare presente qual è la situazione ligure far presente che prima devono essere appunto come dicevamo chiusi i cantieri, chiusi tutta la parte di barriere fonassorbenti e poi eventualmente ridiscusso un aumento credo quindi come dire come ci sia stato un aumento si possa convocare autostrade e chiedere una diminuzione dei pedaggi Ecco, come giudica il senatore il ritorno a cassa depositi e prestiti quindi in qualche modo a casa nostra con i nostri soldi del pacchetto di autostrade? Ma guardi, io credo che sicuramente non potevano le autostrade rimanere ai Benetton e questo era chiaro ed evidente mi preoccupa molto le voci che ogni tanto si sentono di possibilità di ritorno ma non è soltanto una questione simbolica credo che sia anche un messaggio molto chiaro quando c'è una tale fatalità, un tale errore la mancanza di manutenzione chi aveva l'onere di gestire quell'infrastruttura da parte dello Stato non può più avere altre infrastrutture le concessioni pubbliche devono essere molto serie in questo senso il fatto che lo Stato sia intervenuto per anche farsi carico e quindi di entrare all'interno di società autostrade può essere stata anche una necessità credo però che questo comporti ancora di più un senso di responsabilità nel garantire però che ai cittadini vengano appunto garantite condizioni diverse noi non possiamo continuare ad avere una società autostrade che non è in grado di garantire i servizi che non è in grado di garantirci quando partiamo di casa a una certa ora l'orario in cui potremo arrivare non è davvero una questione neanche di parti politiche penso che sia una questione di indignità dello Stato nel momento in cui lo Stato dà in concessione qualcosa lo Stato deve garantire che quella concessione sia sicura per tutti coloro che la attraversino e possa appunto garantire i servizi Ma tra l'altro a Roma devono sapere che da 4 anni e 4 mesi noi viviamo una condizione di assoluta inferiorità si è tranciato il cordone umbilicale con l'Italia e con il mondo parliamo di noi, comuni, gente comune ma gli autotrasportatori, il costo del trasporto si riversa poi tutto sulle nostre tasche Sì, che è un costo del trasporto che sono condizioni di vita degli autotrasportatori ma è anche una questione che riguarda la nostra prospettiva di crescita economica credo che tutti conosciamo persone che vivono al di fuori della Liguria e tutti ci abbiano detto sì, venire da voi oggi è più difficile è qualcosa che si ripercuote sull'autotrasporto ma si ripercuote sul turismo si ripercuote su quelle che sono le pianificazioni a lungo termine delle aziende che decidono o vogliono decidere di insediare in Liguria, Genova una propria azienda e quindi stiamo parlando ad oggi c'è secondo me un'urgenza prioritaria che è quella di completare i lavori quella di completare le barriere fonassorbenti e di ripristinare quello che è un normale assetto poi c'è anche il tema appunto di ripagare di quello che è accaduto lo ripeto, servono interventi del Ministero ma c'è anche, è stato secondo me un errore di valutazione nel concordare con un'autostrade la fine della gratuità dei pettaggi che era prevista fino al 2031